Ciao a tutti, siamo qui a Paderno d'Adda in un posto incredibile, incredibile perché siamo sul fiume, sull'Adda e c'è un posto che si chiama lo Stallazzo, che fa rima con Sollazzo, e già questo dice tutto, dice il fatto che ci troviamo in un ambiente naturale prezioso, il fiume che scorre, il rumore dell'acqua e poi c'è questo posto incredibile che è una cooperativa sociale che fa del bene, mette a disposizione chi passa cibo, bevande, vino buonissimo, ci si trova veramente da Dio. Noi siamo qui per un pomeriggio, anzi per un invito che abbiamo accettato da parte di Luigi, ve lo faccio vedere, che è lui, che è grande Luigi, il quale ci ha invitato, ha detto venite a mangiare qualcosa e siamo qui con gli amici. Ecco, noi abbiamo fatto questo spottino, vi salutiamo sulle onde di Lo Stallazzo, grande Sollazzo, buon vino, si mangia da Dio, venite numerosi perché date una mano non solo a loro ma a tutti i collaboratori. Ciao, ciao, ciao. Complimenti.